In questa lezione parliamo della testimonianza indiretta. Come possiamo intuire si tratta di una particolare, peculiare forma di testimonianza, di. Vediamo allora in che cosa consiste la testimonianza indiretta e in cosa quindi differisce dalla testimonianza classica. Si ha testimonianza indiretta quando il testimone, quindi il soggetto dichiarante che fa, che rende le dichiarazioni oggetto della testimonianza, riferisce dei fatti, delle informazioni di cui non ha una diretta conoscenza, di cui non ha una conoscenza diretta. Questo dichiarante, questo testimone che chiameremo testimone indiretto o testimone derelato dal latino per collegamento, narra dei fatti, dichiara delle informazioni a cui però non ha assistito direttamente, che non ha visto davanti ai suoi occhi. Bensì, quanto ha dichiarato, quanto dichiara, lo ha preso da un soggetto terzo, da un altro soggetto. Ciò che sta dichiarando, i fatti, le informazioni, oggetto della sua testimonianza, gli sono stati riferiti da un altro soggetto. A questo punto, chiarito in che cosa consiste la testimonianza indiretta, dobbiamo chiederci che cosa accade nell'ipotesi appunto in cui un testimone narri dei fatti che gli sono stati a sua volta raccontati. Accade che il giudice, su richiesta di parte o d'ufficio, dispone che sia convocato a deporre, quale testimone, il soggetto appunto indicato dal test indiretto, dal test ed elato, il soggetto quindi che avrebbe raccontato al testimone indiretto i fatti che questi ha reso, che ha dichiarato. Questo è infatti quanto leggiamo nella disciplina prevista dall'articolo 195 del codice di procedura penale rubricato proprio testimonianza indiretta. A questo punto vediamo un esempio di testimonianza indiretta. Immaginiamo appunto di avere il nostro processo con il nostro giudice con il martelletto che lo identifica e le parti, dal lato il PM e dal lato la difesa. Immaginiamo che il pubblico ministero abbia iscritto nella sua lista di testimoni tizio. Tizio viene convocato appunto dal giudice e rende le sue dichiarazioni. Tizio afferma che quanto dichiarato gli è stato riferito raccontato da Caio. A questo punto il giudice, affinché quanto dichiarato da tizio possa ritenersi attendibile, convoca Caio e si presenta quindi al processo a rendere le sue dichiarazioni, diventando anche egli un testimone. In particolare da un lato avremo tizio, testimone del relato e dall'altra avremo Caio, testimone deletto. Ricapitolando, in questa lezione abbiamo parlato della testimonianza indiretta vedendo le differenze con la testimonianza classica e abbiamo fatto un esempio concreto per chiarire la nozione.